Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Riva Valdobbi, abbiamo 5 campane su questo campanile e poi una campana su quest'altro che ascolteremo per la messa, sentiremo le 5 campane come richiamo la Santa Messa e poi la distesa di questa campana alla fine della messa e poi anche l'angelus che consiste nell'allegrezza. A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.